Venuto meno il discorso delle primarie, Massimo Di Paolo annuncia di uscire dalla coalizione e quindi dal progetto di Sulmona Democratica, Udc, Rialzati, Abruzzo e PSI. Dopo la rinuncia del professor Fabrizio Politi, ricordiamo ai socialisti, non è andata giù la scelta di rimediare con Di Paolo da contrapporre alla candidatura di Luciano Marinucci. La decisione dei socialisti di abbandonare la coalizione ha rotto gli schemi. E così per Massimo Di Paolo, terminati i presupposti delle primarie, il discorso per me si chiude qui, ha detto oggi in conferenza stampa. Le primarie sono negli ultimi frangenti di questo anno, ma degli ultimi anni, forse la nota più positiva della politica. Un tentativo che ridà al cittadino una speranza. Di fatto, però, l'interpretazione delle primarie sta degenerando, come spesso sta avvenendo oramai nel dialogo politico, e quando si deve correre, si deve correre a prescindere degli avversari. L'accordo che c'era stato per le primarie nel gruppo di Insieme per Sulmona era un accordo lungimirante, trasversale, aperto a qualsiasi concittadino. Ed era quindi un atto di innovazione molto importante. Sono venuti meno i presupposti e quindi è venuto meno anche il desiderio di competere, naturalmente. Ma come era data la figura di Massimo Di Paolo nell'ambito di questa coalizione? Era nata attraverso dei nomi che erano stati fatti e alcuni gruppi di questo grande progetto avevano optato per la mia figura, soprattutto per alcuni aspetti della mia professione. Ma l'accordo preciso che cosa prevedeva per quanto riguarda le candidature finali? Come si doveva arrivare all'atto finale delle candidature? Le candidature erano molto semplici il modello. Il modello era che qualsiasi cittadino, proprio perché primario, poteva presentarsi attraverso un elenco di 200 firme la propria disponibilità. Ed era stata una condivisione a prescindere e la scelta mia, ma anche di altri, era la mia disponibilità, non la scelta, scusate, era sorta ed trovava ragione proprio in questo principio che era di ordine generale. I socialisti però hanno sbattuto la porta dopo che era stata decisa la sua candidatura alla luce della rinuncia di Fabrizio Politi. Come leggere tutto ciò? Ma io non conosco le scelte dettagliate degli amici socialisti che avranno fatto dei loro ragionamenti politici e avranno deciso questa scelta, insomma. Ma è una cosa loro che non ho condiviso mai perché non ho avuto mai modo di dialogare con gli amici socialisti, anche se restano amici a prescindere. Queste sono note soltanto politiche. Massimo Di Paolo esprime amarezza legata ad una condizione politica che fatica a trovare un filo conduttore. In questa città, sostenuto, i processi innovativi fanno difficoltà a sorgere. Riguardo all'atteggiamento dei socialisti ha detto politici di vecchia data non hanno accettato la competizione per un tentativo macabro di sopravvivenza. Di Paolo estende la riflessione in generale a tutte le piccole formazioni, accusandole di avere a tutti i costi bisogno di sopravvivenza a discapito di processi organizzativi. Siamo in un momento estremamente delicato, sia nazionale. I localismi devono trovare le energie per riorganizzarsi. Questi processi così ambivalenti creano difficoltà proprio per riorganizzare qualsiasi forma di partecipazione, sia amministrativa che politica. Quindi si crea di fatto un ennesimo handicap per poter far ripartire in qualche modo la nostra città.